Buongiorno, 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 rossoneri, non rossoneri, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, 14esima partita di questo campionato 2021-2022, presento il mio ospite, Francesco, ciao a tutti forza mila, presento un altro mio ospite, Patrick dalla Svizzera, da quel di Ginevra, ciao buonasera a tutti, buongiorno, allora carica ragazzi, carica ragazzi, dobbiamo restare dove stiamo, carica ragazzi, allora prima di partire con i commenti, le formazioni, la CIVI colpo di testo Romagnoli sul culo palo Romagnoli 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 sul culo palo bellissimo gol Romagnoli 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 la toccata con Sidi la bucata sul palo andiamo ragazzi andiamo ragazzi andiamo Romagnoli lo sai che sono sempre stato dalla tua parte lo sai Romagnoli questo non è come comunque siamo lì scamacca scamacca tetto a tiro gol del Sassuolo ma no ma vedi sì ma che gol ragazzi oh che gol madonna che gol madonna che gol c'è da dire che imparabile ha tirato una sassata nel set non c'è niente da dire ma prendiamo sempre di quei gol noi come è possibile potete saponare un altro questo qua ancora più bello abbiamo sbagliato il pallone in uscita madonna che non ho visto adesso devo rivedere chi è che ha sbagliato se è Benassere devo rivedere mi sa che Benassere mi sa che Benassere si è ancora una volta scamacca scamacca praticamente dai 20 metri di tiro a giro sotto la traversa imparabile per Magnano no nel set 1-1 1-1 Milan 1-1 Sassuolo 0 santo Dio santo Dio santo Dio che gol che dobbiamo regalare gol noi dobbiamo regalare gol noi dobbiamo sempre solo regalare gol è incredibile è incredibile è incredibile è incredibile 10 sempre 1-1 calcio l'angolo per il Sassuolo dalla loro faccia a destra palla in mezzo dopo la resta in aria tiro col del Sassuolo ma porca soppietta di scamacca dai ma come siamo non ho capito anche questo forse è autogol anche questo forse è un autogol ribattuta palla arriva agli 11 metri no tiro di scamacca magnano ci metto il piede ma la palla in tutto il porto niente da fare niente da fare faccio l'angolo per il Sassuolo dalla destra spizzata di Florenzi arriva sul secondo palo no è autogol scusami è autogol mi sembra che è stato Romagnoli a ribattere e poi scamacca da solo in aria tiro e le cimili magnano col piede la palla va dentro magnano la parata col piede la tirata sulla schiena di Chier e la palla è entrata in porto a Cimilan 1 Sassuolo 2 Berardi Berardi in avanti rimpallo vinto rimpallo vinto dalla Spadori la Spadori ancora per De Frel De Frel De Frel recupera che si recupera che si poi la perde di nuovo ancora De Frel De Frel De Frel in aria De Frel De Frel finta va a terra Donali godi De Frel godi Berardi godi Berardi allora adesso vi blocco non dovete spoilerare i gol adesso vi blocco non dovete spoilerare i gol forse non ci siamo capiti adesso vi blocco non dovete spoilerare i gol che palla ha perso che si porco di quel porco porco di quel porco l'urido porco che palla ha perso che si che palla ha perso che si che palla ha perso che si Romagnoli come si è fatto ha scivolato ha scivolato Romagnoli no mi chiamo ah mannaccia madonna incredibile ma dai 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 dai